Oggi vi presentiamo questa Mercedes classe B 180 CDI in pronta consegna presso la nostra sede L'auto è equipaggiata con fare allo xeno, cerchi in lega da 18 pollici bruniti, retrocamera per il parcheggio, cambio automatico a sette marce, interni in pelle nera, navigatore satellitare e tetto panoramico a primide